e poi a poco torniamo qua, alcune questioni sull'impressionismo, che sono la prima, la questione delle date, cioè primo argomento, datazioni e il rapporto con le mostre e in particolare con i salon. Seconda cosa l'innovazione del colore e terza cosa le innovazioni come gruppo, quindi dividerò insomma in tre argomenti anche perché sono così divisi sul libro un po' giusto per capirsi. Ecco il libro parte da questa foto che ha anche un suo perché, perché qui c'è un protagonista che è Delacroix, che è un pittore francese molto importante del romanticismo che noi abbiamo fatto, insomma un pittore che ha portato grandi innovazioni alla pittura francese dell'Ottocento e a cui rendono omaggio tutta una serie di altri personaggi. Questi altri personaggi, scusatevi l'ho scaricata, sono questi e sono, dopo ve la carico sul sito, i protagonisti di questo movimento, di questo, chiamiamolo pure gruppo perché non è solo un movimento, sono proprio degli amici che si ritrovano. In particolare vi segnalerei ovviamente il pittore che lo realizza, che è questo, che è Fantin Latour, ma soprattutto Charles Baudelaire, il famoso poeta, giornalista, eccetera, eccetera, Jean Fleury, va bene, il tre, questo, che è un altro scrittore, giornalista, barra, tenta di fare l'artista ma il suo ruolo sarà proprio quello di fare il giornalista, e poi Édouard Manet, questo, va bene, che è uno dei protagonisti della rivoluzione impressionista, anche un po' il più vecchio del gruppo che poi vedremo. Perché questa scena è importante? Perché vediamo, capiamo un po' insomma il concetto dell'impressionismo, loro sono stati degli artisti di rottura che non sono stati accettati dalla critica corrente, dalla critica ufficiale, soprattutto quella dei Salon, ma sono stati sostenuti da una serie di, non erano proprio dei critici, erano dei giornalisti, dei poeti, come appunto Baudelaire, è Jean Fleury, scrittore e anche lui artista, e adesso noi diciamo che forse questo sostegno che Baudelaire e Jean Fleury hanno dato, è dato anche un po' prodomo sua, si dice in latino, cioè a favore proprio, nel senso che forse Baudelaire ha cavalcato l'onda, e come lui isolà, insomma, forse, forse ecco, hanno cavalcato l'onda del, come si dice, dello scandalo, in modo da diventare anche loro stessi famosi, perché firmavano il contrario, scrivevano il contrario di quello che scrivevano la critica corrente. Perché cosa succede di fatto a questo gruppo? Che poi ritroveremo, tra l'altro, ecco, a qui, in un altro dipinto di Fantin Latour, in cui c'è, che a noi interessa molto, Manet, che questa volta è diventato più vecchio, siamo dieci anni dopo, che è invece lui, il soggetto che sta dipingendo, circondato dagli amici, e scusatemi, quello col cappello, è Renoir, ecco, e Zola è quello con gli occhiali in mano, e l'ultimo è Manet, quindi questo è Renoir, giovanissimo, poi c'è, ecco, Zola è questo, con gli occhiali, e l'ultimo nell'angolo, questo qui che si vede, insomma, un poco, è Monet. Perché, vedete, sono sempre ritratti in gruppo, perché l'essere in gruppo è una delle loro caratteristiche. L'altro elemento importante di questa immagine è il titolo, perché Batignolle è un quartiere periferico, all'ora di Parigi, adesso, insomma, avere una casa Batignolle vuol dire essere, direi, piuttosto, piuttosto ricchi, vicino a Montmartre, in cui loro potevano permettersi di acquistare, di affittare degli atelier e anche di vivere, perché essendo un quartiere periferico costava abbastanza poco, ma ne parlerò dopo, quando parlerò del gruppo. Ecco, torniamo alla questione dei salons, perché? Perché, scusatemi, cos'è un salon? Un salon esiste in Francia dal, già dal 600, e sono delle mostre che venivano organizzate dall'Accademia di Belle Arti di Parigi per esporre le opere all'inizio dei propri artisti migliori, e poi diventa un salon aperto, cioè si manda la propria opera e si viene scelti. Essere scelti al salon voleva dire prendere la medaglia, primo premio, secondo premio, eccetera, eccetera, era chiaramente importantissimo per la propria carriera, si diventava famosi, ecco, perché dopo ti arrivavano incarichi pubblici, ti arrivavano incarichi di fare ritratti dalle famiglie più in vista, e quindi quali erano i temi del salon? Il salon viene, scusatemi, viene chiuso per un po', viene ripreso nel 31, ecco, fino al 48, chi voleva partecipare, poi arriva questa famosa giuria, no? Ecco, quali erano i temi che andavano di moda? Chiaramente la pittura di storia, la pittura celebrativa, i ritratti, e la qualità dei dipinti veniva valutata con, ci sono delle scene famose satiriche, vediamo se ve le trovo, Salon Parisien 1863, ecco, venivano realizzati in questi, nel petit palais, nell'ufficio delle esposizioni, vedete, venivano messi i quadri affastellati, uno intorno all'altro, uno sopra l'altro, cioè, veramente, era un'esposizione veramente abbastanza caotica, eccetera, però, se non so se ci sono, mi sono incinta di chiamarveli, di cercarveli, delle immagini in cui i giudici andavano in giro con la lente di ingrandimento a vedere, questo è quello del 1787, quali erano, ecco, vedete, questi sono quelli seicenteschi, qua Napoleone che inaugura, ecco, qua siamo nel 1880, ce ne sono alcune satiriche in cui i giudici andavano in giro con la lente di ingrandimento a vedere quanti bottoncini c'erano, come erano disegnati, cioè, era più sulla prassi tecnica che non sulle innovazioni, eccetera, eccetera. La cosa interessante, che per noi, voglio dire, è che nel 1863 Manet presenta, Manet si presenta perché lui ha sempre avuto questo anelito a partecipare, si presenta con questo dipinto che è la colazione sull'erba e questo dipinto da scandalo, da scandalo perché per tutta una serie di motivi che vi spiegherò, non solo dal punto di vista iconografico, perché perché nell'arte dei Salon comunque c'erano i nudi, questo è il quadro, no, aspettate, Salon Venere, vediamo se lo troviamo così, Venere, no, Venere, Sanon Parisien, Parisien, Venere, Venus, comunque c'erano queste opere mitologiche, niente, guardate, oggi ho mal di testa, non mi la posso fare, c'erano queste opere mitologiche con il nudo, però che il nudo fosse mitologico andava bene, anche nell'opera che abbiamo visto prima, insomma, c'erano i nudi, ma che una fosse vestita con gli abiti contemporanei, poi si fosse spogliata, sono due uomini vestiti con abiti contemporanei, sta cosa sta sull'anima a tutti, quindi la cosa da scandalo e tutti vengono rifiutati lui, ma anche gli altri per altri motivi e quindi loro si rivolgono a Napoleone III, si rivolgono a Napoleone III chiedendo di aprire un Salone dei rifiutati, il cosiddetto Salon dei rifiutati, e appunto alle Tuileries, Napoleone III dà la Tuileries, cioè il giardino che sta fuori dal Louvre, perché all'inizio i salons si fanno all'interno di una sala, l'ultima sala del Louvre, dopodiché ci verrà costruito il Petit Palais, eccetera, eccetera, viene dato un padiglione, ed è la seconda volta che degli artisti vengono rifiutati in maniera così palese, dopo appunto Courbet, e quindi in questo edificio dell'industria, eccetera, che c'è alla fine delle Tuileries, viene ospitato questo Salon dei rifiutati, e quindi loro, diciamo così, che hanno modo di esporre senza passare da un filtro della giuria, ecco. Perché è interessantissimo questo? È interessantissimo come nel caso dei Courbet, perché loro si autodeterminano come artisti, in pratica, senza bisogno di un critico o una giuria che dia loro il certificato di artisti. Ecco, questo discorso prosegue, prosegue perché Manet è uno che vorrà sempre il riconoscimento, la medaglia di essere riconosciuto, di poter esporre, mentre gli altri invece no. E quindi inizia un rapporto con dei venditori di cornici, oppure venditori di colori, che scambiano tele o materiali per quadri dipinti, perché questi non hanno soldi all'inizio. sono molto poveri di famiglia. Invece Manet, Degas e Cézanne sono piuttosto benestanti, insomma non hanno problemi, però all'inizio i meno fortunati sono sostenuti da questi commercianti che scambiano materiali per tele dipinte. Questi commercianti poi saranno i primi galleristi, cioè Paul Durand-Ruel, che è il più famoso che troverete scritto, è quello che fonderà una delle prime gallerie private a Parigi, per intenderci. Ecco, la cosa arriva a un livello tale che nel 1874, eccola qua, loro si organizzano, eccolo qua Paul Durand-Ruel, e presso lo studio del fotografo Nadar, che si sta trasferendo, organizzano la prima mostra autonoma degli impressionisti. Questo studio si trova a Boulevard de Clichy, ed è sotto Montmartre, scusatemi, eccolo qua, questo è lo studio, va bene, e qui lui si sta trasferendo, è vuoto, ed è qui che loro si, adesso questo qua, l'edificio, organizzano la prima mostra indipendente. La mostra è un insuccesso dal punto di vista della vendita, ma vendono tutti i cataloghi perché la gente comunque vuole vederla, e soprattutto c'è tanta gentissima gente che va a vederla, perché? Perché per lo scandalo di questi che si auto-organizzano e che si autodefiniscono artisti, ecco, e oltretutto fondano, vedete, questa società, società anonima degli artisti, pittori, scultori, incisori, eccetera, e sono questi qui. E qui c'è tutta la vicenda della mostra, qui partecipano anche altri artisti, ma poi De Nittis, che allora era attivo a Parigi. Ecco, questa mostra viene ovviamente derisa dalla critica, è un critico che si chiama Leroy, non so se ci sia scritto, si scrive Leroy comunque, a partire da quest'opera che è Impressione, Soleil, Levin, Impressione, Levin del Sole, dice in maniera sgardata e offensiva su un articolo del giornale, a questi impressionisti, voglio dire, storpiando dal nome del dipinto. E quindi nasce questa definizione degli impressionisti. ecco, loro a questo punto esporranno sempre come gruppo e sempre all'interno di questa società anonima, che è una sorta di cooperativa per aiutarsi uno con l'altro, che devo dirvi che Delga tra l'altro è il più generoso di tutti, perché continuerà a comprare quadri degli amici finché non raggiungeranno il successo e l'autonomia economica. Ecco, proprio si aiutano fra di loro anche Manet, aiuta Monet, eccetera, eccetera, fin tanto che comunque la ricchezza comincia ad arrivare un po' per tutti. Quindi loro andranno avanti come gruppo fino al 1886, in cui ci sarà l'ultima mostra del gruppo dei pittori, della società anonima dei pittori, degli artisti, degli incisori. Perché? Perché a quella mostra lì si presentano Sera e Signac, scusatemi, e siamo qua, ok, e quando, adesso questa è del 83, ma nel 86 presenta questa e poi soprattutto l'altra che è la Domenica Lagrangiatte, che è un'opera da due metri e passa, che non può essere fatta, insomma, in 60, in un'ora e mezza o due, come lavorava gli impressionisti. Insomma, comunque Monet quando vede questa cosa dice questo non è più impressionismo e lì la vicenda si chiude. Ma la vicenda del gruppo si era chiusa nell'83 perché era morto Manet. Era morto Manet e già il gruppo lì si stava sfaldando. Quindi possiamo dire che la vita, proprio il periodo di sviluppo di questo gruppo va dal 63 all'83 fino, tiriamolo, fino all'86 poi ognuno prende la sua strada e va avanti un po' per conto suo, insomma, con le sue ricerche, con il suo eccetera eccetera. Questo per quanto riguarda la questione mostre. Per quanto riguarda invece le novità, perché queste novità sono così dirompenti? Ecco, devo tornare a qui perché nel 1839 questo signore che si chiama Eugène Chevrel, che fa il tecnico presso la manifattura di Gobelin, che è la manifattura dove vengono tessuti gli arazzi ed è un chimico, quindi si occupa di tintura, dice che i colori complementari si intensificano e ravvivano a vicenda se posti uno accanto all'altro. Ecco, questo si chiama principio del contrasto di simultaneità ed è un effetto fisiologico che avviene nel nostro occhio, quindi non è un effetto, non so come dire, è un effetto apparente che nasce nel nostro occhio grazie alla nostra fisiologia oculare. Lui se ne accorge, perché? Perché ovviamente lui vede il colore che lui tinge, lui ci avrà scritto la quantità, no? E la quantità di colorante che mette per chilo di lana e poi quando lo vede da lontano i due colori accostati nel razzo tessuto, dice ma com'è che qua questa roba è diversa? È diversa perché c'è di mezzo la nostra percezione. Ecco, il contrasto di simultaneità è un riflesso incondizionato, non so come chiamarlo, che il nostro occhio o meglio i coni del nostro occhio hanno se stimolati da un colore, cioè se io fissassi a lungo questo rosso, in mezzo qui nel grigio, il grigio apparirebbe velato di verde, cioè i coni stimolati, eccitati dal rosso, creano, creano fisiologicamente, cioè proprio come risposta del nostro cervello, un'aura, un'aureola intorno al rosso di verde per riposarsi. Proprio il colore complementare, cioè se io fisso il giallo vedo il viola, se io fisso il viola vedo il giallo, se fisso l'arancione vedo il blu, eccetera, eccetera, cioè un po' qui ve lo spiega fatto con il computer, in modo che si veda un po' meglio, insomma. Cioè cosa vuol dire questo discorso? Vuol dire che il colore è assoluto, state bene attenti, è assoluto solo nel momento in cui io sono al computer o in fase di tintura. Infatti questa roba qui si chiama RGB, in stampa si chiama CMYAK, cioè abbiamo dei sistemi certificati, norme UNI, DIN, eccetera, eccetera, che ci dicono qual è il colore che esce dal video in stampa, in stampa su carta, in stampa su tessuto, in stampa su eccetera, eccetera, che sono codificati ormai da tanti sistemi, va bene? Però quel colore lì che è assoluto, una volta uscito dalla fabbrica, tutte le volte che è esposto a condizioni di luce diversa, è messo vicino ad altri colori, ci appare diverso. Ecco perché la roba da vestire non è che sta tutta bene a tutti, perché ho la mia carnagione, ho il mio colore dei capelli, il mio colore degli occhi, bla bla bla. E poi non è che posso comprarmi un vestito sotto la luce al neo, tanta gente la vedete che va verso le porte dei miei negozi a vedere che effetto che fa. Perché? Perché le persone che hanno ben idea di questo discorso sanno che un conto è la luce del negozio, magari da cinese con la luce del neo, un conto è la luce del negozio figo che ti mette in camerino delle lampade, che è sempre uno strafigo e uno specchio ti fa anche più magro, così compra anche di più, e poi invece è la luce naturale e poi un conto la sera, un conto il pomeriggio, cioè il colore relativo. O meglio, come diceva Giotto, come ha scritto Giotto, il colore ambientale, cioè il colore ambientale è il colore che, voglio dire, risulta dagli effetti della luce, dell'acqua, delle cose vicine, eccetera, eccetera. Ecco, questo discorso messo su carta per la prima volta da Chevrel, e avevamo già avuto, voglio dire, dei testi, vi ho fatto quella lezione sul colore in Goethe, cioè c'era già stata tutta una discussione sul colore, sulla fisica, sulla simbologia, ma anche sulla psicologia, bene o male, il discorso di Goethe era molto vicino, non abbiamo detto, come dire, finiremo. Ma quella è la prima volta che uno scienziato, perché pensate che questo soggetto, dopo che si è occupato per una vita di colori, da vecchio, si occupa di geriatria, cioè si occupa di anziani, ma in senso scientifico, ecco, tanto per dire il genio. Ecco, gli effetti visivi, chiamiamoli percettivi, chiamiamoli fisiologici, quello che volete, dei colori non sono assoluti, ma sono influenzati dai rapporti reciproci, non solo fra colori, ripeto, ma anche dell'acqua, del sole, della luminosità, eccetera, eccetera. Ecco, questo diventa fondamentale nel lavoro degli impressionisti, chiaramente, perché appunto, 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 scusatemi che devo tornare a quell'altro capitolo. Quest'opera è basata su questo principio, prima cosa, cioè vediamo una tela con delle variazioni di blu, ma poi abbiamo questo sole arancione, questo sole arancione ci apparirà molto più arancione, perché? Perché se io fisso il blu, qui attorno all'arancione si fermerà un'aura di blu, e lo stesso attorno all'arancione, no, scusatemi, sì, allora, il blu crea un'aura di arancione, e l'arancione crea un'aura di blu, quindi questa zona qua è molto più brillante, o meglio, in linguaggio tecnico si dice più satura. Quindi i colori accostati per complementari danno una vividezza, che in pittura si chiamerebbe saturazione maggiore. E questo è una cosa importantissima per gli impressionisti, quindi un uso del colore è completamente diverso, tra l'altro loro sono quelli che dicono, ma se io ho un limone giallo appoggiato su una tovaglia scacchi bianchi e blu, il riflesso di quel colore lì, scusatemi, l'ombra di quel colore lì, non sarà mai nera, perché il nero è un colore che non esiste, l'ombra sarà l'insieme del blu più il verde, cioè l'ombra sul limone sarà verdastra, e l'ombra portata sulla tovaglia sarà un altro verde, scusatemi che mi è caduto il microfono delle cuffie, sarà un altro verde più intenso, perché è sul blu che si proietta il giallo, e invece sul giallo si proietta il blu dell'ombra propria. Questo ragionamento scardina tutta quella che è la conoscenza della pittura invece più tradizionale, come potrebbe essere questa, dove le ombre sono fatte col bruno o col verdaccio sotto, insomma il verdaccio sotto quando si usava ancora la tempera, è scardinato. Secondo principio, quindi questo è il primo, i colori sono sempre, il contrasto di complementarietà, di simultaneità, usando i colori complementari aumenta la saturazione, non solo, il secondo principio che scende da Chevraël è il fatto del colore locale, che il colore non è assoluto, e questo diventerà il tema centrale di Monet. Monet soprattutto, più di tutti, cercherà di inseguire gli effetti della luce sugli oggetti, e i riflessi dell'acqua sugli oggetti. Tant'è che a un certo punto Monet riesce a… quindi cos'è importante? È importante dipingere all'aria aperta, en plein air, dal vivo e non in atelier. Perché? Perché dal vivo puoi cogliere gli effetti di luce veri. Ma per dipingere all'aria aperta, come fai? Che devi star lì a prepararti il colore tutte le volte, no? Pestare, picchiare, mescolare, sbattere, direbbe Giovannotti. E invece, sapete, non so se l'avete studiato l'anno scorso, devi preparare sto bolo, metterci l'olio, il colore dura, cioè… invece è chiaro che lì, a quel punto, l'industria chimica è nata, soprattutto di ambito tedesco, perché l'industria chimica è tedesca. La Basf, che poi ha dato origine, di cui un ramo è la Bayer, è una azienda tedesca che nasce proprio per la preparazione dei colori. Ma così tutte le industrie chimiche e il colore viene… nasce il colore in tubetto. Quindi questi iniziano a dipingere all'aria aperta. Ma voi potreste dire, ma tanto anche agli altri prima dipingevano all'altra aperta? Sì, tanti facevano acquarelli, però, anche coso, anche come si chiama Constable, anche Courbet, però facevano gli acquarelli, gli schizzi e poi andavano in studio e dipingevano il dipinto in studio. Invece loro proprio vogliono cogliere la realtà, o meglio, i colori, gli effetti di luce della realtà in diretta. E come fanno? Intanto la pittura en plein air, en plein air, vuol dire all'aria aperta. E poi, senza disegno sottostante, dipingere la prima. Cioè dipingere velocemente, quindi capite le quadri, i dipinti sono di piccolo formato, in modo da cogliere velocemente gli effetti di luce d'ombra e spesso vanno fuori a disegnare, a dipingere insieme, scusatemi. Vi faccio vedere un dipinto famosissimo, la Grenouiller, che è un dipinto famosissimo che fanno sia, che realizzano sia Monet, sia Renoir, che sono amicissimi. Eccolo qua. Insieme, va bene, in contemporanea, adesso mi dirà di andare su Pinterest, va bene, apriti sesamo, sì, dimmi che ti apri, eccolo qua. Vedete, questo è Monet e questo è Renoir, sono insieme, di fianco, cavalletto su cavalletto. Questo, la Grenouiller è un laghetto che c'è a Parigi, in periferia, vicino alla Gentail. Eccolo qua. Loro due contemporaneamente. Come si fa a dipingere la prima? Senza disegno sotto? Si dipinge direttamente col colore, con questi tratti velocissimi, vedete, in cui le figure chiaramente non si distinguono, perché io devo avere l'impressione degli effetti di luce e colore sull'acqua, i riflessi sugli oggetti, e cogliere le variazioni di luce e ovviamente colore, man mano che la giornata cambi. Ecco, cambia proprio completamente il panorama artistico, perché Courbet ancora disegnava, Courbet aveva questa materia pittorica molto densa, molto irregolare, che non piaceva ai critici, ovviamente neanche quella, pastosa, ma qui la pennellata si fa ancora più sfaldata, ancora più veloce, ancora più repentina, capite? Perché le tele devono essere piccole, cioè siamo 50 per 70, 48 per 63, perché bisogna farla velocemente per non perdere l'impressione, per non perdere quell'attimo che ti dà la luce. Tant'è che Monet poi comincerà la questione delle serie, cioè dedicherà una cinquantina di opere a tutta una serie di oggetti, la più famosa è quella che vi spiegherò io, è la cattedrale di Rouen, questa, lui vedete, disegna più di 50 tele, dipinge più di 50 tele, mettendosi davanti a seguire durante, per due anni, però lavora a 10-12 tele in contemporanea, perché ogni tela deve essere un determinato momento del giorno, poi cambia stagione, poi cambia mese, eccetera, eccetera, ne fa di queste cattedrali, tra l'altro prima delle cattedrali, siamo già negli anni 90, lui farà, dipingerà la stazione della Gave Saint-Lazare, a Parigi, Monet, perché è un tema, l'altro tema appunto è quello del vapore, il vapore delle locomotive per lui è importantissimo, è interessantissimo, gli effetti che fa, eccola qua, guardate qua c'è anche tutto, i cosi messi insieme, cioè lui cerca di esplorare un tema, il vapore, l'acqua, ma poi farà Venezia ovviamente, eccetera, eccetera, tant'è che a un certo punto la cosa divertente è che convincerà Monet a seguirlo, Monet a un certo punto si lascia convincere a dipingere un plenare, lui è un pittore invece all'antica, insomma, lui ha lo studio con la luce che viene da nord, galleggiante, ecco, e si lascia convincere che dipinto fa Monet, fa un dipinto che ritrae Monet che dipinge sulla sua barca, bellissimo, no? Gli fa proprio un omaggio perché Monet per dipingere in maniera così viva, vivida, i suoi dipinti ad Argentel, dove a un certo punto compra una casa perché i soldi li fa, si fa costruire anche questo atelier galleggiante e allora Manet, che si recca dal presso di lui, lo ritrae mentre sta dipingendo e Manet appunto fa un dipinto un plenare che, voglio dire, non è nelle sue corde, non è nel suo modo di lavorare, eccetera, eccetera. Chiudo con l'ultima questione, cioè quella del gruppo, perché questi artisti che non si riconoscono nelle accademie, ecco, quasi nessuno di loro frequenta un'accademia. Dov'è che si trova? Dov'è che si possono trovare a discutere? Sono amici e si trovano in un caffè. Ecco, prima il guerbois, questo, in cui loro discutono, disegnano, si scambiano idee, eccetera, eccetera. Siamo appunto nel quartiere vicino a Batignol, come infatti loro vengono chiamati, prima di impressionisti, il gruppo di Batignol e poi successivamente, scusatemi, alle Nouvelle Athènes, l'altro ritrovo degli impressionisti. Nasce proprio con gli impressionisti questo rapporto fondamentale per tutta l'arte del Novecento, che è tra gli artisti e i luoghi pubblici. Artisti che non hanno magari un atelier all'inizio, che non hanno, non si trovano in un'accademia o fuori della porta dell'accademia, come è spesso successo a tanti giovani del Novecento, italiano, penso, insomma, Schifano, altri che si conoscono in un'accademia e i suoi amici, anzi no, Schifano, scusatemi, il suo gruppo, il gruppo di amici veri, si chiama Piazza del Popolo perché anche loro si trovano in un caffè, in un bar, in un bar a Piazza del Popolo a Roma negli anni 60 e 70. Quindi nasce questa relazione con i caffè e i caffè l'altra volta abbiamo detto che esistono perché c'è questa rivoluzione urbanistica importantissima a Parigi, cioè il fatto di costruire una nuova città in cui gli appartamenti sono piccoli, non ci si può più trovare in casa, la media borghesia non ha case così grandi da poter fare le feste degli hotel della nobiltà parigina e quindi nasce questo nuovo locale che è il caffè bar bistro a Parigi, ma il caffè appunto diventano il luogo di ritrovo. Prima c'è il Parbois, eccolo qua, dopo di chi è il Nouvelle Atene e poi tutta la zona di Montmartre sarà la zona degli impressionisti, tant'è che anche gli impressionisti dedicano, questo è un dipinto famosissimo che si intitola l'assenzio di Degas, dedicano dei dipinti appunto soprattutto Degas che ha i caffè, ha i bar, ma Degas anche ha i caffè chantant, cioè ha i caffè dove si balla e si canta, Degas, caffè, vediamo che opere, caffè concerto, eccoli qua, fino ad arrivare a quest'opera dell'81-82 di Manet che vi spiegherò, che è il bar delle Folies Bergerne che esiste tutt'oggi, oggi è un teatro di cabaret, ma era un caffè chantant, cioè un caffè dove si cantava, scusatemi, si facevano concerti e sono i temi delle opere, tantissime opere di Degas che appunto rispetto a Manet ha un po' meno di dipinti, di all'aria aperta, ecco, ha più Degas l'amore per queste scene di vita pubblica, però capite che la vita pubblica, il caffè concerto, il trovarsi al caffè, oppure la domenica, passare la domenica a ballare come Renoir, il Bal, al Moulin de la Galette, questo Moulin de la Galette esiste tutt'oggi sulla montagnetta di Montmartre, però vabbè, ovviamente è un ristorante, eccetera, eccetera, invece era veramente un mulino che la domenica chiudeva e, scusate, continua a cadermi il microfono, la domenica chiudeva e lasciava aperto lo spazio interno del giardino, del luogo dove caricavano i carri di farina per ospitare i giovani che andavano lì a ballare, poi via via diventa un caffè, anche questo, ed è un luogo di ritrovo della domenica, quindi tutti quei, e Renoir ne fa tantissimi di questi colazioni, su quei canottieri, non canottieri, è una città trasformata che diventa il palcoscenico della vita del terzo, quarto, diciamo, degli anni 60, gli anni 80 e poi via via, la famosa Parigi della Belle Epoque, questo è il tema degli impressionisti, ma non perché loro vogliano proprio raccontare questa roba qui, ma perché è quello che vedono, che vivono, perché sono giovani e perché gli permette loro di vedere tantissimi effetti di luce e ombra, come per esempio in questo caso, tutta la luce che filtra dagli alberi, vedete che si posa a macchie sulle giacche, tra l'altro questa è tutta un'opera costruita, messa in scena, montata, è un'opera di quasi due metri, lui che va avanti indietro dalla domenica, dal dal Moulin de la Galette per rappresentarla, questi qua sono tutti i suoi amici messi in posa, ma insomma, al di là di questo, nello specifico di Renoir, il tema delle stazioni, dei balli, dei caffè concerto, della vita all'aria aperta, sono i temi degli impressionisti, ma non perché loro vogliono raccontare o denunciare una situazione sociale alla Courbet, no, perché quella è la vita che loro fanno, che fanno i parigini e che dà loro la possibilità di raccontare tutta questa vivacità luministica di colori che, insomma, è la loro ricerca e il loro tema. Fine.